L'eccellenza, giornate dense di appuntamenti per festeggiare l'arrivo dell'estate, il solstizio d'estate, come ogni anno da un lato vuol dire il Festival della Romagna, quindi fino a domani in svolgimento, poi lunedì un po' l'inaugurazione anche del magazzino del Tre dell'Ecomuseo, una delle caratteristiche della cittadina. E poi ci piace allungarci già quello che succederà nei prossimi giorni, nella prossima settimana, dal 25 al 29, quando, come vi accennavo, ventunesima edizione del Festival Danza per salutare l'estate e noi lo facciamo salutando poi il responsabile della comunicazione, Fabrizio Silvestri. Bentornato su Isorario, Fabrizio, buonasera. Buonasera Sandro, ben ritrovati a tutti voi. Allora, state, come dire, facendo il footing preparatorio perché voi trasformerete il palasporto in questa sorta di ballroom in perfetto stile inglese, no? Sì, è il primo tentativo che facciamo per salutare l'estate 2014, sostizio d'estate oggi, ma la vera estate inizierà appunto con noi a Cervia dal 25 per apertura dei lavori, come diciamo così, di questo meeting della danza, dove quest'anno ci saranno due appuntamenti importanti. E' particolare, no? Esatto, molto particolare perché c'è per la prima volta in Italia a Proda un campionato del mondo di video dance, tanto per ricordare qual è la video dance. Spieghiamo meglio a chi non è proprio addentro, anche perché poi queste sono manifestazioni talmente di colore, di, come dire, scenografiche che poi affascinano tutti. Esatto, la video dance è un po' quello che noi vediamo nelle videoclip dei migliori cantanti. Una sorta di voguing di Madonna, partendo da Madonna a Justin Timberlake che hanno un po' creato questo fenomeno di video dance dove i passi sono coreografati tenendo conto il puntamento di una telecamera. E quindi essere sempre a vantaggio di una telecamera per poter fare quello che potrebbe essere un po' un tempo quello che faccio in Olandi oppure Falqui nei balletti. Grandi storici ballettieri, quelli che poi voi avete celebrato anche l'anno scorso, quella bella mostra, no? Esatto, che abbiamo già celebrato. Partiva dal classico e arrivava al Dada Umpa. Esatto, della televisione, esatto. Beh, ti ricordi bene, era proprio la mostra fotografica a Stati di Danza che quest'anno è in forma privata, solo per alcuni, diciamo così, beletti perché sarà un po' da cornice a questo evento e chi arriverà dentro la nostra barroom di Cervia assisterà e potrà vedere ancora queste bellissime foto. Uno diceva, ma era il campionato del mondo di video dance e hip hop. Poi c'è l'altra parte invece il campionato del mondo per gli over 40, perché come tutti sappiamo lo sport e in questo anche la danza, non fa eccezioni, si gareggia fino ad una certa età, dopo un limite che non vuol dire essere over, fuori, però il cedimento fisico viene e deve essere affecondato. E allora si è ben pensato di poter far gareggiare tutti quelli che hanno un'età superiore ai 40, tenendo conto di poter appunto anche loro ambire ad un titolo mondiale. E questo riguarda sia le danze standard che le danze latinoamericane e per la prima volta anche questo in Italia si celebra questo campionato del mondo. Del resto superato una certa soglia, ahi noi, se da un lato si è fuori dall'aspetto agonistico sportivo, però c'è quello fitness, quello salutare che diventa importante, quindi quasi terapeutico. Questa è la danza, infatti l'alto frontiale della danza è proprio la wellness della fit dance, dove quella che noi possiamo definire un po' una monotonia di gestualità e di riti dell'aerobica, invece si aggiunge con la danza tutto ciò che è il divertimento, le endorfine si producono maggiore entusiasmo, migliore quindi forma fisica, ma migliore anche tutto ciò che è l'aspetto relativo alla circolazione, cardiovascolare e a quanto noi possiamo poi così con il fisico misurarci. Gli over 40, questo lo sanno bene, non hanno lo sprint probabilmente, è la forza degli over 18, però ce la fanno ugualmente. Eh caspita, lo sappiamo bene. Noi siamo anche lui in ottima forma, non balliamo, non aspiriamo al titolo di campione del mondo, lo lasciamo agli altri. Lui lasciamo a chi comunque ha deciso di fare questa professione. E poi c'è quest'altra sezione, credo anche questa bella suggestiva, che già lo scorso anno ha riscosso grande successo, in cui gli insegnanti, i docenti, come dire, gareggiano ballando proprio con i propri allievi. Esatto, questa è un'altra bellissima iniziativa, perché è pro-arm, si parla sempre, si discute che una signora ama ballare, ma il marito non vuole ballare. Gli americani sono arrivati prima di noi, come al solito, e hanno deciso, va bene, qual è il problema? Tu accompagni tua moglie a ballare e ballerà con lei il maestro. E il maestro va a fare le competizioni con la propria allieva, tenendo presente che non si valuta poi l'aspetto tecnico del professionista, che già di per sé comunque è abbastanza elevato, ma si valuta solo la postura, l'eleganza e i passi che compie in quel caso l'allievo. Il giudizio è un po' solo su una persona, vedendo nel complesso sempre poi la coppia. E questa è un'altra iniziativa che noi l'anno scorso abbiamo per primo anno ospitato, grande successo, e ci arrivarono oltre 50 coppie dalla Russia, Ucraina e dall'America. Quest'anno speriamo di vissare, se non superare il numero, questo ci fa molto piacere. Oddio, leggo comunque che tenei partecipanti nelle diverse sezioni veramente tutto il mondo, perché sia dalla Russia, Malta, Giappone, Israele, Austria, Canada, quindi ormai... parte dal studio da Sud Corea, insomma ci sono molti cambiamenti... Ci sono nuovi star come sempre, nomi, quelli che ormai attraverso la televisione, ballando sotto le stelle, sappiamo e conosciamo quanto siano diventati i miti. ...permentano a giudicare questi mondiali, ci sono i volti un po' anche televisivi, da Jeremy Smith al Catherine Arzenton, Nancy Berti, sono personaggi che hanno, o comunque ha portato all'interno di un programma televisivo la loro professionalità e comunque non dimenticando e non abbandonando quello che è la loro primaria attività in questo appunto giudice di gara. E quindi la Carolyn Smith, come Catherine Arzenton e dicevo Nancy Berti, saranno lì a giudicare veramente a questo punto la tecnica e non solo il volto. Chi non potesse essere poi a Cervia, che tra l'altro merita per tanti aspetti di essere visitata, può farlo o attraverso YouTube o attraverso il sito, no? Attraverso YouTube avremo una diretta streaming per tutti i giorni della competizione partendo dal pomeriggio. Ci si può seguire facilmente su tutti i social network, che sono quelli che comunque oggi i ballerini prediligono, da Twitter a Facebook. Si trova facilmente con Digitando la Danza, oppure la Danza Telematica, che sono i nostri due, oggi chiamiamoli portali, che ci aiutano a diffondere e far vedere a chi è comodamente seduto a casa o in spiaggia con gli smartphone e i telefonini e si può guardare una bellissima competizione di ballo. Dal 25 al 29. A voi buon lavoro, ovviamente, a tutti gli altri buon divertimento. Grazie a tutti voi, buon ascolto e buon viaggio con Isoradio. Grazie Fabrizio, buona serata. Buona serata, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.